Abbiamo il piacere di annunciarvi la collaborazione fra Lettera M e Messina Sportiva, testa alla giornalistica che negli anni è stata in grado di imporsi come uno dei principali punti di riferimento per tutti gli amanti dello sport in città e in provincia. Grazie a questa sinergia sarà possibile leggere tutti gli articoli scritti dalla redazione di Lettera M sulla home page di Messina Sportiva e lo stesso avverrà sul nostro sito con un'apposita sezione dedicata allo sport. Sin all'inizio dell'avventura di Lettera M abbiamo sempre sostenuto l'importanza del fare rete ecco questa è un'occasione ottima per mettere in pratica tutto quello che abbiamo sempre ribadito tutto quello in cui abbiamo sempre creduto e lo facciamo con un partner prestigioso, un partner che è sul territorio da molto più tempo di noi. Saremo così in grado di offrire ai nostri direttori un servizio che finora non abbiamo offerto perché volevamo farlo al meglio. Ecco la partnership con Messina Sportiva ci mette in grado di poterlo fare e poterlo fare bene secondo gli standard che noi Lettera M ci siamo dati sin dall'inizio. Messina Sportiva e Lettera M da oggi viaggiano insieme per un'informazione ancora più completa. Sulle rispettive home page in una sezione interna i lettori avranno a disposizione tutti gli articoli realizzati dall'altra redazione. Abbiamo scelto Lettera M perché in pochi anni è riuscita ad affermarsi raccontando la città in modo efficace con approfondimenti davvero puntuali. Lanciamo peraltro un messaggio di sinergia in una città in cui spesso si viaggia divisi anche nello sport come accade nel calcio, nel basket e nel volley. Noi invece siamo convinti che l'unione faccia ancora la forza. Buona lettura.